Saba è un racconto di 30 anni di progetti fondati su tre principi semplici la libertà quale valore vitale dell'essere umano che ci ha accompagnato nella ricerca delle forme flessibili la poesia maestra e educatrice nell'armonia nelle forme e nella bellezza dei colori la memoria guida etica affinché un prodotto ci accompagni nel tempo attraverso la ricerca di materiali di qualità durevoli e perfezionanti del comfort 30 anni che ora raccontiamo attraverso le pagine del nostro nuovo catalogo il cui titolo è già da sé un manifesto e personal living experience la casa è il luogo dove recitiamo la nostra esistenza e le scenografie che creiamo parlano di noi e raccontano di ciò che ci piace la casa è il luogo dove tessere il libro della propria vita ed esprimere se stessi perché la libertà è un valore interiore che nella nostra epoca è tanto importante quanto indispensabile mi accompagna da sempre la necessità di dare un senso agli oggetti che produciamo i divani e attraverso essi comunicare idee sulla vita e visioni sull'esistenza ecco perché le nostre collezioni ananta pixel limes maitao savana pre sono pensate per garantire una libertà senza pari con loro tutto può avvenire si lavora si ama si accoglie si sogna in un rapporto che possiamo riformulare applicando continue variazioni li pensiamo flessibili arrendevoli alle differenti esigenze che tra l'altro cambiano nel corso della vita gesti facili umani per definire nuove esperienze di relax creativo così creiamo una relazione con loro come in una storia d'amore li amiamo a lungo perché si tengono viva la seduzione attraverso infinite possibilità di cambiamento trasformandosi hanno il potere di ricreare geografie e in questo io vedo la poesia e la magia così sabba concentra lo sforzo creativo per aiutare i consumatori a coltivare sentimenti duraturi di relazione con i nostri prodotti poiché la temporalità diventa un bisogno essenziale per la sostenibilità il nostro vocabolario ricerca bellezza e armonia ed esprime il valore dell'eleganza che sottintende il valore della discrezione new york essenzial app geo karma danno valore al senso della misura e dell'intimità sabba mantenendo la centralità del comfort vuole essere una realtà sempre più inclusiva e aperta alle diversità comunicare cultura creatività attraverso collaborazioni artistiche così nasce la relazione con antonio marras e il suo speciale e unico vocabolario estetico accompagna lo spettatore in una nuova esperienza dove non esistono più i confini tra l'uomo l'abito e la casa l'abito come l'abitare è una parte della nostra ricerca selezioniamo i tessuti immaginando esperienze di sensorialità soft abbinando i colori e l'esperienza visiva che essi possono creare il colore non può essere spiegato con una teoria ma deve trovare una spiegazione più profonda nella poetica così come nell'estetica la scelta di un colore non è mai un caso l'obiettivo è sempre quello di creare armonia ed equilibrio rispettando la forma e la natura dell'oggetto sabba non sceglie uno stile sceglie la bellezza che si svela in ogni stile e lo interpreta sorridendo